Ragazzi miei belli, buon pomeriggio a tutti. Dopo la partita contro il Napoli a Napoli al Maradona abbiamo visto uscire dal campo in una situazione che ci ha fatto un attimo preoccupare Stefan De Vrij e Denzel Dumfries. Denzel Dumfries io credo che purtroppo per una necessità proprio di campo abbia dovuto giocare anche non essendo al massimo della condizione e quindi ci siamo ritrovati ovviamente con un infortunio abbastanza pesante che pesa sulla schiena ma soprattutto perché fondamentalmente quadrato non è al top della condizione e mancando quadrato qualora dovesse essere sono... non so, diciamo così. Detto questo oggi ci sono stati gli esami strumentali sia per Stefan De Vrij che per Denzel Dumfries. Che cosa dicono questi esami strumentali? Questi esami strumentali intanto danno conferma di un risentimento muscolare sia da parte di De Vrij che per quel che riguarda Dumfries solo che il difensore ha un risentimento agli adduttori mentre l'esterno ha un risentimento ai flessori. I tempi di recupero saranno più o meno... sono più o meno stimati di 20 giorni ragazzi quindi dovrebbero ritornare a disposizione di Simone Inzaghi almeno per quel che riguarda le gare per la gara di Genoa Inter del 29 dicembre. Ovviamente durante le settimane la situazione verrà monitorata e vedranno un attimino se i tempi di recupero saranno più brevi o meno brevi. Speriamo sempre che il Signore ce la manda buona anche perché Bastoni sta per rientrare ma praticamente sta facendo il tour de force per rientrare. Benjamin Pavard prima di dicembre anche lui non lo rivedremo sicuramente in campo e quindi parliamoci chiaro senza aver speso tutti questi grandi soldi avendo una difesa veramente secondo me forte ci ritroviamo purtroppo ahimè nel mese di dicembre che dobbiamo fare i conti con tanti infortuni per quel che riguarda la retroguardia dell'Inter. Ci sono state tante polemiche dopo Napoli-Inter che mi hanno un po' buttata giù moralmente ma non perché mi interessa tanto il fatto della gente che parla troppo no perché sono state dette troppe cose, si è parlato poco di campo si è parlato proprio della bellezza del gioco dell'Inter perché fondamentalmente ragazzi parliamoci chiaro l'Inter ha fatto il terzo gol dopo 23 tocchi uno dopo l'altro di fila cioè ragazzi non è che stiamo parlando di quisquiglie stiamo parlando del gioco, del calcio è chiaro che certi episodi possono essere contestati oppure meno ripeto e ribadisco il fallo sullo vodka ci poteva stare lo poteva fischiare ci mancherebbe altro il rigore non c'è mai ma mai neanche se ti metti d'impegno perché allora facciamo una cosa non giochiamo più al calcio facciamo altro nella vita perché secondo me se dai un rigore del genere dove Acervi sfiora appena appena il tendine appena il tendine di Ozyman e allora ragazzi dobbiamo dare 25 rigori a partita detto questo mi è sembrato un po' troppo too much il fatto che Mazzarri non sia andato alla conferenza stampa sinceramente un po' troppo esagerato mi è sembrato esagerato il commento del che è il direttore delegato là l'amministratore delegato del Napoli insomma mi è sembrato tutto un po' too much tutto un po' continuiamo ad alimentare odio tra i tifosi questo mi è sembrato ci sono state delle polemiche ci sono state delle cose che non sono andate bene anche per quanto riguarda Atalanta-Inter l'Inter poteva rischiare di pareggiare una partita ragazzi parliamoci chiaro l'Inter poteva rischiare di pareggiare una partita perché il gol di Scamacca era viziato da non da un fallo da una proprio trattenuta evidentissima cioè da una trattenuta di Lokman su Di Marco che solo non lo so solo una persona che non vede non può vedere quel fallo lì però Inzaghi è andato ai microfoni ha parlato non ha fatto tutto quel gran macello è vero che l'Inter ha vinto ma merito dell'Inter ragazzi miei perché se tu sul primo gol non riesci a recuperare una partita nonostante l'errorino arbitrale del fallo sullo vodka e prendi altre due pagnotte è mica colpa dell'Inter è mica colpa mia e io questo voglio far capire l'Inter nonostante il torto subito comunque quella partita l'ha vinta a Bergamo dove non è facile vincere a me è questo che mi fa girare talmente le scatole che mi fa intreppare da morire perché non è possibile che ogni volta a parte che ragazzi parliamoci chiaro noi siamo tifosi siamo tutti tifosi non decidiamo niente noi e che noi ci dobbiamo sentire attaccati ogni volta come per carità per nove anni di fila si sono sentiti attaccati gli juventini si sono sentiti attaccati per altri anni i milanisti ma noi siamo tifosi cioè prendetevela con gli arbitri prendetevela con questo con questo regolamento che non si sa mai quando è fallo da rigore che non si sa mai quando è fuori gioco in maniera evidente che non si sa mai quando un fallo è da ammunizione oppure no c'è stato un fallo sull'Inter contro il Napoli che per me per quanto mi riguarda andava sanzionato con l'ammunizione perché Di Marco praticamente stava quasi andando era partito in contropiede verso l'area di rigore del Napoli mi ricordo se Di Marco c'ha la nogula addirittura o Carlo Stagusto mi ricordo insomma chi era però siccome non si capisce mai più non si capisce mai qual è il cartellino giallo qual è il cartellino arancione qual è il cartellino verde bordeaux non si capisce mai quindi fino a quando non ci saranno delle regole chiare delle regole precise di quello che sono di quello che è l'andamento e la gestione dei cartellini e di quello che è l'andamento e la gestione dei falli sarà sempre così sarà sempre guerra ma siccome non mi piace fare la guerra ragazzi io sono molto cambiata e ve l'ho detto nel tempo mi sono data una grande regolata e ho capito veramente le cose importanti della vita ma soprattutto ho capito che noi tifosi tutti non centriamo niente ed è bene che quasi tutti la pensassero così ed è bene che quasi tutti la pensassero così perché c'è raga che centriamo noi con le società e con chi va ad arbitrare e con chi va in campo noi siamo tifosi noi abbiamo le nostre squadre del cuore nel cuore ma non dobbiamo essere sempre attaccati ci dobbiamo scannare fra di noi un tempo anche io attaccavo la tifoseria avversaria sbagliando perché non è la tifoseria in sé per sé che dovrebbe essere attaccata detto questo io mi sono anche stancata di tutte queste cose oggi tra ieri insomma dopo la partita contro il Napoli veramente ho dovuto bloccare io vi giuro sono arrivata a quota 100 su facebook 100 blocchi su facebook e sono arrivata su tiktok a quota 57-58 blocchi mi dispiace ma sinceramente io non voglio avere a che fare con la tifoseria ignorante non ce n'ho voglia non mi piace che devono venire a parlare sempre siete delle me e fate ski e siete dei ladri di me e siete la nuova Juventus c'è gente che mi dice siete la nuova Juventus cioè ragazzi ma datevi una regolata ma datevi una regolata perché voi fondamentalmente le partite dell'Inter non le vedete tutte non sapete quante volte anche con la gestione dei cartellini perché le partite si decidono anche nella gestione dei cartellini non sapete quante volte l'Inter è stata defraudata con la gestione dei cartellini non sapete quante volte l'Inter è stata messa in un angolo con la gestione dei cartellini perché sapete benissimo che Simone Inzaghi con la gestione dei cartellini appena prende un giallo è obbligato a sostituire lo sapete benissimo, perché una volta che non l'ha fatto Cagliardini si è fatto buttare fuori una volta che non l'ha fatto e che ha deciso di fidarsi del suo giocatore poi alla fine Cagliardini si è fatto buttare fuori ma è un'altra storia per questo vi dico, tante volte l'unica differenza è che Simone Inzaghi invece che fare come Murigno che ogni caspita di cartellino giallo ogni caspita di cosa va e si lamenta in continuazione, in continuazione, in continuazione Simone Inzaghi racconta la partita, risponde alle domande della partita, nonostante è stato massacrato per anni, continua a fare il signore e forse a volte sbaglia a fare il signore ma io lo adoro, lo amo per quello che è, per com'è, perché è un grande uomo e basta, questa è la differenza, questa è la differenza sostanziale Giuseppe Murigno in questo mi ha molto delusa mi ha molto delusa, nonostante ho proprio un grande sentimento nei suoi confronti ma quest'anno proprio mi sta deludendo in una maniera impressionante io sono fiera e orgogliosa del mio mister e di quello che sta facendo e soprattutto di come risponde a tutti questi attacchi mediatici a tutto questo schifo che sta succedendo ogni santa volta ragazzini e belli io penso di aver finito la mia la mia esposizione di oggi vi abbraccio forte perché devo andare a controllare sto facendo le patate fritte gli hamburger con le patate fritte quindi devo andare a controllare le patate fritte in questo momento mi sta monitorando mia madre la situazione però io ho tagliato le patate e tutto però la devo andare a finire il capolavoro diciamo che stavo facendo ragazzi quindi vi abbraccio forte come se fossi lì ricordatevi sempre che la vostra Luque vi vuole bene? oh non dimenticatevi di condividere il video se siete d'accordo con me e soprattutto invitate i vostri amici a iscriversi al canale e qualora non l'aveste già fatto ragazzi iscrivetevi al canale e attivate la campanella così vi arrivano le notifiche è tutto gratis non chiedo né abbonamenti e né niente tutto gratis e sempre e solo forza Inter e ognuno che ti fira a sua squadra con tanto di rispetto buona serata a tutti ciao ciao Grazie.